Io ho quasi 91 anni e penso di essere ancora in grado di votare e di contribuire anche al mio paese. Però questa proposta di Grillo, al di là della provocazione, pone certamente un grosso problema, perché una mareggiata di vecchi è all'orizzonte. Pensi che soltanto i centenari, oltre centenari, nel 2050 saranno 150.000 in Italia. Certo a contare di tutti gli altri. Sarà certamente da un punto di vista economico una situazione molto pesante. Questi anziani avranno un potere elettorale e premeranno per il breve termine, mentre un paese ha bisogno di pensare in prospettiva al medio e lungo termine per i giovani. Allora che farne di questi anziani? C'era un film di fantascienza, 2025, i sopravvissuti, in cui queste persone anziane venivano convocate in un cinema per una conferenza. A un certo momento il conferenziere tirava una leva, le poltrone si ribaltavano e tutti questi vecchi cadevano in una fabbrica di biscotti, venivano trasformati in biscotti. Non credo che questo sia favorabile per il nostro futuro, però comunque c'è un problema sul quale bisogna veramente riflettere. Grazie. Grazie a tutti.